Si è tenuto questo pomeriggio nella Sala delle Adunanze del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari il primo seminario organizzato dalla Commissione Lavoro e Previdenza Sociale. Tema, il salario minimo tra novità giurisprudenziali, iniziative legislative e dibattito politico. Ad introdurre i lavori, il Presidente dell'Ordine degli Avvocati, Salvatore D'Aluiso, con la Presidente della sezione Lavoro del Tribunale di Bari, la Dottoressa Maria Luisa Traversa. L'Avvocata Federica Romani spiega le ragioni di questo incontro. Il salario minimo è stato scelto come il primo argomento oggetto di questo incontro formativo organizzato dalla Commissione Lavoro e Previdenza Sociale dell'Ordine degli Avvocati di Bari proprio per l'intenso dibattito politico che c'è sull'argomento ma soprattutto per le recentissime sentenze della giurisprudenza di legittimità a cui sono seguite giurisprudenzio di merito da ultimo proprio quella del Tribunale di Bari che confermando quella che è la natura precettiva dell'articolo 36 della Costituzione fa un passo in avanti, affida a quella che è i giudici la determinazione della giusta retribuzione lì dove il contratto collettivo applicato al caso di specie non garantisce gli indici della proporzionalità e della sufficienza facendo riferimento a un contratto collettivo affine oppure che prevede mansioni analoghe a quelle del lavoratore ricorrente Ad evidenziare la necessità di una legge che disciplini il salario minimo è il professor Marco Barbieri ordinario di diritto del lavoro all'Università degli Studi Aldomoro di Bari che sottolinea anche l'importanza e il ruolo che stanno rivestendo i magistrati in questa fase così delicata I giudici fanno il loro mestiere che è di garantire che il precetto dell'articolo 36,1 sulla retribuzione proporzionata è sufficiente il precetto costituzionale sia effettivamente osservato non potrebbero fare diversamente io sono stato molto stupito quando ho visto la sentenza che poi la Cassazione ha censurato della Corte d'Appello di Torino che diceva se c'è un contratto collettivo che lo prevede allora va bene ma il contratto collettivo come la legge sono entrambi soggetti alle norme costituzionali quindi è naturale che in presenza di una situazione nuova dove il contratto collettivo non garantisce più quella retribuzione sufficiente per chi invece non se lo vedeva applicato bensì è proprio il contratto collettivo a prevedere una retribuzione insufficiente lì interviene la giurisprudenza questo apre dei problemi tecnici notevolissimi si può fare riferimento al tema dei parametri con cui il giudice fisserà la retribuzione spettante si può fare riferimento al problema delle gare di appalto delle amministrazioni pubbliche si può fare riferimento all'attività dell'ispettorato del lavoro e quindi alle diffide accertative in presenza di un'incertezza su quale sia il compenso effettivamente spettante tutto questo ci porta a dire che una legge è indispensabile è una legge che fissi una soglia minima inderogabile infine il professor Luca Calcaterra ordinario di diritto del lavoro all'Università di Napoli su Orsola Benincasa mette in guardia dal rischio che il peso gravi esclusivamente sulla magistratura e chiarisce ulteriormente che la giurisprudenza non sta andando in direzioni diverse dal passato Allora la giurisprudenza non sta andando in nessun posto particolarmente nuovo la giurisprudenza va in questa direzione da sempre e ci sono giudizi molto risalenti che riguardano questo stesso orientamento che è stato nel corso degli anni precisato, affinato, rafforzato oggi queste sentenze richiamano l'attenzione perché in alcuni passaggi si legge molto chiaramente un invito a intervenire, quasi una chiamata in aiuto perché i magistrati sono consapevoli che il compito sarebbe quasi insormontabile cioè la magistratura si troverebbe letteralmente travolta dal numero di cause e tra l'altro con esiti anche imprevedibili perché ogni storia fa parte a sé e sappiamo che nel nostro ordinamento il precedente ha un valore del tutto limitato è un valore del tutto è un valore del tutto è un valore del tutto è un valore del tutto